Ciao, sono Barbara, un'insegnante di educazione fisica. Vi propongo qualche esercizio di sceltezza da fare a casa, di stretching, per tenervi un pochino in forma. Partiamo con la classica posizione a farfallino, cercando di tenere la schiena dritta e di spungere giù le ginocchia. Apri le gambe, espiro, allungo, tengo, almeno otto tempi, col petto, chiudo, vado in torsione, tengo la posizione, schiena bella dritta, ritorno, lì, allungo la chiena, apro bene le spalle, ruoto, apro, ripeto tutto dall'altra parte, allungo, petto, ritorno, lì, vado in torsione, lo faccio veloce, voi prendete bene le posizioni, allungo, ritorno, apro, stendo, martello, schiena dritta, inspiro, allungo, tengo la posizione, espiro, sciogliere, incrocio, guardo in torsione, spalle sempre basse, lontano dalle orecchie, apro, cambio, torsione, vado a rullare sulla schiena, a farlo sotto le ginocchia, rullo, su, schiena dritta, allungo, ripeto, rullo, per chi vuole osare di più, apro e schiaccio bene e chiudo, ricordatevi di tenere bene le posizioni, almeno 20 secondi, allungo la schiena, giù il petto, almeno quattro volte, parlo adatto, inspiro, espiro, dare bene i piedi e allungo dietro e ritorno, inspiro, allungo e ritorno, poi da qui, allungo e sciogliere, e buono allenamento! Grazie!